Un lupo e un agnello, spinti dalla sete, si ritrovarono a bere nello stesso ruscello. Il lupo era più a monte, mentre l'agnello beveva a una certa distanza verso valle. La fame però spinse il lupo ad attaccar briga e allora disse «Perché osi intorbidarmi l'acqua?» L'agnello, tremando, rispose «Come posso fare questo se l'acqua scorre da te a me?» «È vero, ma tu sei mesi fa mi hai insultato con brutte parole. Impossibile, sei mesi fa non ero ancora nato». Allora riprese il lupo «Fu certamente tuo padre a rivolgermi tutte quelle villanie». Quindi saltò addosso all'agnello e se lo mangiò. Grazie a tutti.